sta penalizzando il calciatore, se ovviamente volete un esempio lampante ve lo fornisco immediatamente lo vedete lì in quella voragine, qui ora va Basso a ricevere questa palla lo vedete tra tre avversari, il ragazzo secondo me ha delle responsabilità occhio abbiamo parlato di contesti tattici ma lui individualmente secondo me dei difetti li sta mostrando perché Juve che raggiunge la finale di Coppa Italia nonostante la sconfitta subita contro la Lazio ed ovviamente anche nella vittoria tra virgolette piovono le critiche c'è una squadra che praticamente non gioca a calcio, che non propone nulla e degli interpreti che stanno soffrendo ed uno forse anche il principe se vogliamo di questi interpreti in sofferenza è Federico Chiesa qualcuno ormai lo sta criticando aspramente, le prestazioni effettivamente non sono all'altezza delle aspettative c'è addirittura chi pensa ad una cessione se vogliamo a cuor leggero parliamo proprio del ragazzo, vedremo qualche dato come sempre ma il focus inizierà come al solito su quello che è l'aspetto tattico e anche tecnico di questa stagione complicata di Chiesa stiamo parlando di un giocatore che ha subito un vero e proprio downgrade che sta depotenziando quelle che sono le sue qualità e quella che è la sua potenzialità dal punto di vista calcistico allora, aspetto tattico sicuramente una premessa doverosa ma anche banale il ragazzo non viene messo nelle condizioni ottimali per rendere al meglio in questa Juve sono pochi gli interpreti che emergono grazie a quella che l'idea proposta dall'allenatore io lo dico sempre, io non sono un acerrimo critico di Allegri a me Allegri è anche piaciuto durante una parentesi della sua carriera che è stata comunque vittoriosa ma ad oggi ragazzi quel che è giusto è giusto la proposta collettiva quindi di tattica anche individuale e povera è quella che la valorizzazione dei calciatori è discutibile come dicevo Chiesa in questo sistema di gioco 1, 3, 5, 2 sicuramente fa e dimostra di fare fatica per quella che è l'impostazione tattica della squadra viene spesso a venire incontro, un lavoro che a volte addirittura condivide con Vlaovic un lavoro che lo va a depotenziare per quello che è un discorso di posizionamento, di postura quando cercato spalle alla porta dal punto di vista tattico non viene messo nelle migliori condizioni per far bene questa è una prima premessa ovviamente che è necessaria ed a proposito di tattica e condizioni per poter anche far bene vi ricordo che per i corsi del prossimo mese abbiamo ampliato il numero massimo di partecipanti data alla richiesta, abbiamo però gli ultimi tre posti disponibili come sempre formazione in ambito calcistico se volete diventare match analyst, osservatori data analyst formazione, accesso ad offerte di lavoro nel mondo del calcio accesso a programmi professionali per poter poi effettivamente mettere le mani in pasta codici sconto e accessi gratuiti ragazzi tutti i dettagli qui in basso in descrizione basta mandare una mail anche solo per chiedere se vi va vi aspettiamo ma per tornare a questo chiesa in difficoltà dal punto di vista tattico come dicevamo la proposta è povera chiesa non viene messo spesso in condizione di poter far bene di poter sfruttare le qualità ad esempio in conduzione e nel dribbling e tutto ciò si ovviamente traduce in un ragazzo che viene a giocare troppo basso spesso circondato da calciatori in zone del genere che lo vanno a pressare in maniera vehemente anche non troppo se vogliamo anche perché è solo basta un pressing anche solo accennato da parte degli avversari e chiesa entra in difficoltà perché in difficoltà? perché viene spesso incontro ripeto lavoro che depotenzia anche Vlaovic ne abbiamo già parlato ma ovviamente parlando di chiesa se lasciato solo spalle alla porta un lavoro che tende a non prediligere con compagni difficili da servire perché troppo distanti perché magari insomma si necessitano passaggi che devono superare diversi avversari per poter trovare i compagni di squadra tutto ciò si traduce in un discorso tattico che sta penalizzando il calciatore se ovviamente volete un esempio lampante ve lo fornisco immediatamente lo vedete lì in quella voragine qui ora va basso a ricevere questa palla lo vedete tra tre avversari poi controllo difettoso corsa a vuoto e mi allaccio proprio a questo discorso contesto tattico che fa anche stancare il calciatore occhio corrono tutti più o meno vabbè comunque si stancano tutti ma quando un giocatore d'attacco viene chiamato spesso a correre a vuoto è lì il discorso si complica ulteriormente sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico gli attaccanti poi sono sempre un po' più insomma ambiziatelli da questo punto di vista sono pochi gli attaccanti che amano correre quando un attaccante magari corre a vuoto una volta due volte tre volte una partita un mese tutta la stagione ad un certo punto psicologicamente può soffrire la situazione dal punto di vista tattico il ragazzo secondo me non si trova a proprio agio quindi lì ci sono difficoltà di posizionamento e di espressione del proprio gioco tutto ciò collegato ad un dispendio fisico e psicologico che secondo me fa la differenza ma questa è una prima parte dell'analisi perché il ragazzo secondo me ha delle responsabilità occhio abbiamo parlato di contesti tattici ma lui individualmente secondo me dei difetti li sta mostrando perché innanzitutto un giocatore schierato qui è chiamato a fare un certo tipo di gioco come dicevamo ma anche in altri contesti magari spostato più come esterno quando la squadra è chiamata magari a cambiare un po' il sistema tattico anche lì qualche roba dal punto di vista individuale secondo me insomma è da discutere perché è un ragazzo un calciatore che tende sempre a cercare la via della porta la verticalità anche in maniera insistita ed anche in maniera secondo me negativamente egoistica quindi diverse situazioni dove è possibile magari servire i compagni ma la giocata non viene effettuata transizioni positive quindi contropiedi non sfruttati per un mancato passaggio ed occhio in analisi non si analizza un caso isolato si arriva a una conclusione quando c'è una certa ripetitività di un certo tipo di giocata come in questo caso quindi giocate mancate inspiegabilmente a volte poi vedremo un esempio qualche dato che può tornare utile ad esempio un giocatore che raramente scarica non capisco bene il motivo non capisco se è un'indicazione del mister o se proprio il ragazzo non vede questo tipo di giocata perché contro la Lazio ritorno di semifinale i passaggi in avanti sono stati 17 quelli all'indietro solo 4 in una squadra come la Juve che comunque ha diversi interpreti sotto la linea della palla quindi un dato che denota questa attitudine mancante del ragazzo ora non sto qui a dire il ragazzo se la passa più spesso all'indietro diventa insomma un fenomeno no non voglio dire quello ma delle robe delle giocate mancanti che secondo me non aiutano la squadra occhio anche alle palle perse ne ha perse 4 durante la partita spesso in maniera anche ingenua quindi testardaggine per quanto riguarda la conduzione passaggi anche elementari mancati con Vlaovic che si muove senza palla per dettare il passaggio a volte ignorato in situazioni anche secondo me elementari dal punto di vista individuale secondo me qualcosa non sta funzionando un breve esempio il seguente lo vedete qui testa bassa altra cosa che a me non piace giocatore libero a fianco a sé servito tardi o forse anche non servito perché la giocata è stata roccambolesca palla persa perché insomma una situazione facile da recuperare per quanto riguarda gli avversari questo è stato solo un esempio di quelle che sono varie giocate secondo me sbagliate del ragazzo un ragazzo che psicologicamente e tatticamente sta avendo delle difficoltà ma a volte sembra non applicarsi come esterno può far meglio rispetto a quello che è il ruolo tattico che gli viene affidato giocando come punta o comunque seconda punta delle combinazioni che a me preoccupano innanzitutto per il ragazzo che insomma dicevamo prima un po' depotenziato ad oggi è un ragazzo che secondo me potrebbe aver bisogno di fiducia tattica e psicologica all'interno di un contesto tattico che alla Juve però sta venendo meno quindi come sempre le considerazioni in ambito Juve durante questa stagione sono le seguenti in caso di cambio di guida tecnica io comunque un chiesa alla Juve tendo a volerlo vedere magari riscopriamo un chiesa o comunque il solito chiesa di qualche stagione fa che può riesplodere perché ragazzi parliamoci chiaro qualità ne ha ma occhio di nuovo non sono responsabilità secondo me da addossare solo all'allenatore perché dal punto di vista individuale criticità ne ho viste anche lui secondo me un po' del suo deve metterlo però come dico sempre questa è solo e soltanto la mia opinione ho detto un po' quelle che sono le mie letture vi aspetto però qui in basso nei commenti per conoscere quelle che sono le vostre opinioni l'analisi di oggi finisce qui come sempre spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like e condividetelo se vi va è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi un salutone ed al prossimo appuntamento sto pure senza voce un po' come chiesa in questa juve gli manca un po' un ritorno di fiamma però deve metterci del suo altrimenti si fa fatica vorrei vederlo sotto un'altra gestione però un'altra gestione un'altra gestione